Giovedì 26 aprile 2019 Buongiorno dalla nostra redazione, mattino 6 la nostra consueta rassegna stampa per la lettura dei quotidiani, giornali oggi in edicola, noi apriamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani, dei giornali abruzzesi, iniziamo con il centro, con l'edizione di Pescara, il titolo principale riguarda un drammatico fatto di cronaca avvenuto nella mattinata di ieri, ammazza il vicino per i rumori, finisce in tragedia, una lite per questioni condominali, Pescara sferra decine di coltellate, poi telefona ai carabinieri e confesse, è accaduto poco dopo le 10 di ieri mattina in uno stabile di via Pian delle Mela, all'angolo con via del circuito a Pescara, poche centinaia di metri dall'ospedale civile. In alto poi vedete il titolo che riguarda la visita ieri, giornata del 25 aprile in Abruzzo, nella nostra regione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Vediamo anche qualche altro titolo nella parte bassa della pagina, Montesilvano, Maragno, Musa era l'assessore più assente della giunta, parla il sindaco dopo l'estromissione dell'ormai ex assessore della giunta comunale. Pescara, Riviera Nord, da oggi chiude anche il tratto fino a Viale Muzzi e poi il terremoto, terremoto di ieri mattina con epicentro in Molise, scossa di 4.3, scossa avvertita in maniera chiara, nitida, anche in Abruzzo, soprattutto nell'Abruzzo meridionale, nel Vastese, ma fino a Pescara. In tanti hanno sentito la terra tremare. Poi a Pescara, cambiando argomento, regione da sgomberare, il palazzo di Viale Bovio che ospita proprio gli uffici della giunta regionale. Poi andiamo ancora più in basso, si parla di Pugilato, benvenuti 80 anni di ricordi, il Pugile a Roseto, il campione festeggia questo traguardo importante a Roseto degli Abruzzi, dove si è concluso uno stage giovanile, campionati giovanili di Pugilato e ha parlato proprio di questa importante ricorrenza. Siamo alla prima pagina del centro edizione di Chieti Lanciano Vasto, ovviamente l'apertura in questo caso è dedicata alla visita di Mattarella nella nostra regione, il bacio all'Abruzzo, vedete poi nella foto il Presidente della Repubblica che bacia un bambino proprio a Casoli, il Presidente accolto dalla folla prima a Taranta Peligna e poi a Casoli. Da voi, ha detto Mattarella, è nato il 25 aprile. Vediamo le cronache di Chieti e provincia, San Salvo autobruciata, il secondo caso in tre giorni, poi Chieti ha si attrezzato causa per lavori non pagati. E poi il calcio di eccellenza, ieri ultimo turno di campionato, Chieti le accuse degli ultra ai calciatori, tifosi del Chieti che hanno contestato la squadra prima durante e dopo la gara con il River, giocata a San Giovanni Teatino. Siamo alla prima pagina dell'edizione di Teramo del centro, la cronaca azzannata a cinque anni dal cane di casa, Pineto la bimba è stata ferita al volto, ricoverata all'ospedale Salesi di Ancona. E poi vediamo le cronache, referendum nel Partito Democratico in vista delle amministrative di Teramo, di Sabatino chi perde dice si deve ritirare. E poi a Martinsicuro, raddoppiati i poveri in cinque anni e poi ancora andando più in basso a Giulianova, ricorso al Tarra per lo sgombero delle palazzine. Vediamo anche la prima pagina di L'Aquila, Avezzano e Sulmona del centro, riapre lo stello più alto d'Europa, Pienone a Campo Imperatore, corse doppie per la funivia. E poi le cronache, l'Aquila, cultura in lutto, Paolucci muore per un infarto, Luigi Paolucci, direttore di sala del ridotto del teatro comunale. E poi ad Avezzano, crisi in comune, De Angelis, oggi il sindaco di Avezzano fa la conta. E poi ad Introdacqua, vola con l'auto in un burrone, grave un ventenne. Vediamo anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero, anche in questo caso l'apertura è sull'omicidio di ieri mattina a Pescara. Uccide a coltellate il vicino, tragico esito di una lite condominiale per i rumori prodotti da un garage laboratorio. E poi vedete la foto con il saluto del Presidente della Repubblica, Mattarella, ieri in visita in Abruzzo. La resistenza, ha detto il Presidente della Repubblica, è nata qui. E poi il libro, vedete l'articolo di Spalla, Teramo dal Trecento, capitale della Sanità. Marcello Mazzoni da medico ad autore di una ricerca ricca di scoperte. Vediamo anche gli altri titoli della prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Scossa in Molise, tanta paura da Vasto a Pescara. E poi Vasto, ma cambiando argomento, ancora Roghi nella notte, una BMW a fuoco a San Salvo, per meglio precisare. E poi Alba Adriatica, vigili in 130 al concorso. Vediamo in alto anche alcuni altri richiami di notizie e articoli che ritroveremo all'interno del giornale. L'Aquila, il Gran Sasso ritrovato tra Pienone e Vecchi Guai. E poi la Box, abbiamo visto anche dal centro. Nino Benvenuti festeggia gli 80 anni a Roseto. Poi il campionato regionale di eccellenza di calcio. Real primo chiude vincendo. Real Giulianova già promosso con due giornate di anticipo in Serie D. Chieti pareggio e tensione tra squadra e tifosi. Vediamo anche la prima pagina del quotidiano. La città, bimba azzannata al volto da un cane. Stava giocando con l'animale in giardino a Silvi. Ricoverata in gravi condizioni ad Ancona. E poi 25 aprile, celebrazioni per la liberazione dal fascismo. Lezione di unità. Poi vediamo anche le notizie che riguardano la politica. Teramana ma non solo. Centrosinistra diviso, candidature PD vincolate alle consultarie. E poi centrodestra diviso, civici al voto con un proprio candidato. E poi Silvi al voto, scordela il centrodestra. Unito e vincente, dice l'esponente di centrodestra. Poi la cronaca, la cronaca che arriva ancora da Silvi. Moto contro auto a Silvi, grave un 24enne. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Poi tra poco torneremo a vedere gli argomenti, i titoli all'interno del centro, del messaggero e del quotidiano della città. Vediamo invece i titoli principali dei quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. La politica nazionale ed internazionale non solo. In primo piano il PD si divide, intesa più difficile, con i 5 stelle. Prosegue il mandato esplorativo del Presidente della Camera FICO. E poi Macron, ovazione al Congresso. Vedete la foto con il Presidente francese che è stato ospite negli Stati Uniti. e dice no ai nazionalismi, il Presidente Macron. E poi una notizia che arriva da Liverpool. Ultraarrestati, la UEFA durissimi con la Roma. Gli scontri con un tifoso del Liverpool in coma. Vediamo anche Repubblica. Martina sui 5 stelle. Voglio provarci, ma il PD è sempre più diviso. Dunque non tutti sono d'accordo sull'eventualità di un'alleanza di governo con il Movimento 5 Stelle. Poi vedete Iran-America, lo scatto di Macron, la stretta di mano in questa foto tra i due Presidenti di Francia e Stati Uniti, Macron e Donald Trump. E poi vedete la notizia di quanto accaduto dopo la partita di Coppa dei Campioni tra Liverpool e Roma. Tifoso in coma a Liverpool, arrestati 5 romanisti. Allarme per la gara di ritorno. E poi un altro titolo in basso. WhatsApp vietato agli under 16. Ecco perché sarà difficile applicare le nuove norme volute dall'Unione Europea. Siamo al fatto quotidiano. La politica in primo piano. PD, Martina, apre 5 stelle. Subito i Renziani lo linciano. Vediamo anche la prima pagina nazionale del messaggero. Follia ultra a Liverpool. Allarme a Roma. Tifoso irlandese in coma. Due romanisti arrestati dalla Digos in trasferta. E poi la politica in primo piano. A centropagina scogli. Movimento 5 stelle. PD, Fico, rallenta. E poi in basso. Macron al congresso americano. Fermiamo l'Iran. Dice il primo presidente francese. Siamo al mattino di Napoli. La politica il titolo in alto. Vedete Movimento 5 stelle. PD, lo stop dei militanti. E poi il dramma di Alfie. Se ne parla tanto in questi giorni. Se ne parla tanto Alfie ultimo no all'Italia. Il padre contro i medici. La famiglia dice vogliono lasciarlo morire. E poi l'operazione chirurgica di emergenza. Qui è stato sottoposto due notti fa. Il presidente merito della Repubblica, Giorgio Napolitano. Sta meglio il medico che tempra. 93 anni quasi per Giorgio Napolitano. Sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. E poi in basso. Ultraromanisti. Follia. A Liverpool. Proseguiamo con un altro giornale. In questo caso si tratta del Sole 24 Ore. Che parla di economia come sempre. Allarme da Borsa e Bond. L'economia è in frenata. Oggi ci sarà il DEF. Documento di economia e finanza. Più prudenza sulla crescita. Che dovrebbe aggirarsi tra l'1,5. E' l'1,6%. Vediamo anche Libero. Forza PD scendi dal fico. Scrive il quotidiano Libero. Non può allearsi con i fanfaroni del Movimento 5 Stelle. Questo il richiamo poi in alto. E poi vedete sul Libero la resistenza di Napolitano. L'intervento è andato bene. Ma Giorgio non è fuori pericolo. Il manifesto resistenza a Milano-Roma divisa per il 25 aprile. Manifestazioni in tutta Italia. Anche qualche polemica. E poi salto con l'Astag. La sfida va accettata. Basta Astag. Scontro a distanza nel PD. Sul confronto con i 5 Stelle. Martina critica la campagna senza di me. Lanciata dai Renziani sui social. Ma l'ex segretario non molla. Si allarga la frattura in vista della direzione. Oggi le consultazioni bis del presidente della Camera Ficola. Vedete nella foto, contrapposti, il segretario attuale Martina e quello uscente Renzi. Che sono su posizioni diverse per un'eventuale alleanza con il Movimento 5 Stelle. Governo e PD. Siamo alla stampa controoffensiva di Renzi. L'ex segretario spezza il fronte di chi vuole trattare con il Movimento 5 Stelle. Attenti, non temo il voto. Per una notizia che riguarda i cambiamenti climatici, ghiacciai liquidi che spostano i confini, gli effetti del cambiamento. Italia, Francia e Svizzera litigano per rivendicare porzioni di territorio che ovviamente si trova al confine fra i tre paesi. Siamo al tempo di Roma. Forza Sen, vedete il titolo di apertura, Senkos è in coma dopo essere stato pestato a Liverpool da due ultra arrestati della Roma. Da come leggiamo in questo titolo, dopo la morte del tifoso napoletano, ricorderete la tragedia di qualche tempo fa. Romanisti ancora alla sbarra SOS per la vendetta degli Oligans. Siamo al quotidiano La verità, fuga dall'Italia, le vere cifre dell'emigrazione. Questo è il titolo di apertura del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. I numeri ufficiali parlano di 114 mila connazionali in un anno che espatriano in cerca di lavoro. E poi vedete il titolo più in basso, la vicenda della piccola Alfia, la chiave per la selezione della specie nel mondo dei diritti di tutti a tutto, solo al bimbo inglese, è negato quello di muoversi e persino di vivere. Scrive il quotidiano La verità, il padre denuncia i medici per tentato omicidio, mio figlio è stato torturato e i giudici ribadiscono il loro no a Roma. Siamo al secolo d'Italia, rieccolo, vedete si parla di consultazioni del presidente della Camera FICO, delle polemiche per un eventuale accordo tra Movimento 5 Stelle e PD. Vedete nella foto Renzi che è contrario, così come molti ma non tutti nel PD, ad un eventuale governo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Siamo al quotidiano avvenire, la guerra dei comuni per frenare l'azzardo, un titolo nuovo, argomento nuovo sulle prime pagine dei giornali. Crescono infatti i casi in cui Tare e Consiglio di Stato danno ragione ai sindaci e bocciano i ricorsi, aumentano le sanzioni puntate in calo, così i tribunali hanno convalidato i limiti alle slotta, le sale giochi. Vedete poi anche su avvenire, respiro dopo respiro, la battaglia di Alfi contro il protocollo. E poi una notizia che riguarda il terremoto, Molise trema di paura ieri con epicentro, proprio non lontano dal confine con l'Abruzzo, fortunatamente non sono stati segnalati danni e soprattutto feriti. Vedete anche la politica, secondo giro per FICO, la base PD verso il no, ne parlavamo qualche istante fa. Abbiamo esaurito dunque l'ampia pagina dedicata ai titoli, alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Torniamo ai giornali di casa nostra, ripartiamo dal centro, dalla visita ieri in Abruzzo a Taranta Peligna e poi a Casoli del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da voi è nato il 25 aprile, in migliaia abbracciano il Presidente della Repubblica che sceglie due piccoli comuni per celebrare il 73esimo anniversario della liberazione. Vedete le foto della visita del Presidente della Repubblica in Abruzzo, quest'altra pagina con il Capo dello Stato che ha reso omaggio alla Brigata Maiella. In mattinata, prima di partire per l'Abruzzo, Mattarella aveva deposto una corola all'altare della patria. Ieri dunque è una giornata importante per la nostra regione, la visita del Capo dello Stato che abbiamo seguito con le nostre telecamere. Possiamo andare a vedere il servizio. Nelle giorni della festa della liberazione del 25 aprile, mattinata abruzzese per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha incontrato gli amministratori della nostra regione, ha visitato il Sacrario di Taranta Peligna. Il Presidente della Repubblica si è raccolto intanto ricordando tutta la storia, la lunga vicissitudine con cui si è poi conseguito il risultato della costruzione del Sacrario. E poi ricorderò che il Sacrario ha bisogno di un restyling, di un giusto tecnologico proprio per informare tutti i visitatori di tutte le vicende, anche i profili e il curricula dei diversi partigiani, non solo dei caduti ma anche di quelli che poi sono morti successivamente. E poi voglio ricordare anche al Presidente della Repubblica quanto sia importante anche per un territorio come il nostro, piccolo, poter uscire dalla desolazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è poi spostato presso il Castello di Casoli. Buongiorno signor Presidente, sono Enza Campitelli e loro sono i miei colleghi, Alex Funti, Guido Manzi e Lorena Di Cinque. Il nostro progetto di archivizzazione a scuola lavoro denominato da Leati a Nebici, la riqualificazione storica, turistica e memorialistica della linea angustica del settore più di sangue, ha la finalità di sviluppare un percorso della memoria, si pensa a Valentino, collegandola a quanto sta avvenendo in altre regioni europee. Assolutamente sì, ho voluto sottolineare al Presidente l'importanza dei nostri territori, l'importanza del valore che noi riusciamo a esprimere, sia sotto l'aspetto sociale, sotto l'aspetto economico e sotto l'aspetto culturale. Veramente noi ci impegniamo molto, ci impegniamo molto per la nostra Italia e per l'unità. E si è vista veramente un Paese che ha accolto a festa il Presidente, ciò che rappresenta il Presidente. Ma il Paese ha veramente reso omaggio al Presidente della Repubblica per questo giorno del 25 aprile, nei momenti in cui ha voluto lui testimoniare agli eroi, ai ragazzi della Brigata Maiella, ciò che hanno fatto. Quei ragazzi che 20 anni, 22 anni, 18 anni, si sono messi un fucile in braccio e hanno lottato per la liberazione dell'Italia. Facile forse liberare il proprio Paese, i propri affetti, i propri cari, però puoi continuare, andare oltre, andare fuori provincia, andare fuori regione, fin anche a Brisighella, entrare per primi a Bologna è qualcosa di eccezionale. Infine nel teatro del Centro del Sangro, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato di questa importante ricorrenza e del sacrificio della Brigata Maiella nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Andiamo dunque ad ascoltare uno stralcio del discorso del Capo dello Stato. Sulle pendici del Gran Sasso, nelle Valle della Maiella, tra paesi e borghi d'alta quota, nacquero spontaneamente nuclei del movimento di resistenza al nazifascismo, i primi in Italia. Nella lotta al nazismo il popolo d'Abruzzo fu particolarmente esemplare, pagando un tributo alto di sangue che va ricordato adeguatamente, con riconoscenza e con ammirazione. Si aprirono così, tra questi monti, i sentieri della libertà. La libertà democratica, dopo il cupo del degno fascista, ha le sue radici nella resistenza, iniziata qui, in Abruzzo. Al termine del discorso del Presidente della Repubblica abbiamo ascoltato alcune delle più importanti personalità politiche presenti oggi a Casoli, in particolare il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini ed il Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Giuseppe Di Pangrazio. Una giornata memorabile, certo per Casoli, certo per l'Aventino, per la Maiella, ma lo è per l'intero Abruzzo. Il Presidente della Repubblica non soltanto ha voluto, con le sue parole, celebrare il 25 aprile qui, da noi, in Abruzzo, ma ha descritto in modo molto efficace il contributo che gli abruzzesi, la Brigata Maiella, e non solo, fornire o no, alla lotta di liberazione in Abruzzo e in Italia. L'Abruzzo rende onore tutti i giorni alla Brigata Maiella. Oggi c'è stato qualcosa di più. La Repubblica, lo Stato italiano, con la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, ha reso onore e rende riscritto nella storia questo grande lavoro, sacrificio, disponibilità data dalle nostre genti per la conquista della libertà in quel lontano 1945. Siamo alla cronaca regionale dalle nostre province verso il voto. D'Alfonso, non devo dimettermi subito, oggi si riunisce la Giunta per le elezioni, in anteprima la lettera del Governatore e Senatore che spiega la sua scelta. E poi in basso, nuovi direttori fatta la squadra, questa sera la Giunta nomina i capi dei dipartimenti con la lista dei nomi. La nuova emergenza, siamo a Pescara, il Palazzo della Regione, a rischio di sgombero. L'immobile non ha i requisiti di staticità richiesti dalle normative, dirigente lancia l'allarme al direttore Bernardini. Domani ci sarà un vertice proprio in Viale Bovio. Siamo a Pescara, l'omicidio di Via del Circuito. Uccide il vicino per i rumori, muratore di 58 anni, padre di quattro figli, accoltellato più volte nel garage del condominio. La vittima stava sistemando le zanzariere per la casa, la moglie che lo vedeva rientrare è scesa a cercarlo e ha visto l'assassino seduto sulle scale. Dopo l'aggressione, l'assassino è risalito a casa dall'anziana madre e ha telefonato ai carabinieri o ha coltellato un uomo. Venite. Vedete quest'altra pagina che parla proprio di questo omicidio accaduto ieri mattina. Pescara la vittima, padre e nonno, vicino alla pensione, famiglia e lavoro. E poi l'assassino Roberto disoccupato che accudisce la madre. Mai un problema in passato per quest'uomo. Allora possiamo andare a vedere il servizio curato da Alfredo Primante che fa un po' il punto, racconta in questo servizio quello che è accaduto ieri a Pescara, questa tragedia, questo omicidio del 25 aprile. Vediamo. C'è sconcerto incredulità tra i condomini e i vicini della palazzina all'angolo tra via del circuito e via Pian delle Mele a Pescara. Nessuno riesce a spiegarsi come una banale lite di condominio forse per i rumori in appartamento prodotti da piccoli lavori domestici mal sopportati possa essere sfociata in un efferato omicidio. La vittima è Salvatore Russo, 58 anni, muratore originario di Apricena in provincia di Foggia da anni però residente a Pescara. Ad aggredirlo questa mattina attorno alle 10 è stato Roberto Mucciante, 51 anni, disoccupato che in quella palazzina vive con la madre. I due, raccontano i testimoni, avevano batti beccato spesso ma nessuno poteva pensare che dalle parole si passasse alle coltellate e sono stati numerosi fendenti vibrati nel corso dell'aggressione che hanno raggiunto la vittima al torace, all'addome e al dorso. Mucciante ha scaricato sul Russo tutta la sua rabbia, poi con le mani ancora insanguinate è tornato al primo piano nel suo appartamento ed ha chiamato i carabinieri per costituirsi. Sono sceso giù, già c'erano i carabinieri, già stava lì, stava e sono andato via perché i carabinieri l'hanno mandato via. Salvatore Russo è descritto da tutti come una persona tranquilla e lavoratrice, padre di quattro figli. Da poco era tornato a lavorare a febbraio infatti, era riuscito a trovare di nuova occupazione dopo un periodo di inattività. Sotto sciocchi i suoi familiari, la moglie e le due figlie che vivono a Pescara. Sul luogo del delitto nella mattinata si sono alternati gli investigatori, i carabinieri e polizia che hanno raccolto testimonianze dei condomini e dei vicini. Ha dato qualche spiegazione rispetto al suo gesto? No, no, no. Peraltro si è anche costituito perché ha ammesso con una telefonata di essere l'autore del delitto. Sul luogo del delitto anche il magistrato di turno della procura di Pescara Valentina d'Agostino e il medico legale Cristian Dovidio a cui spetterà la ricostruzione medica dei colpi che hanno portato al decesso di Russo. Mucciante, dopo essere stato medicato all'ospedale di Pescara, in evidente stato confusionale è stato portato nel comando provinciale dei carabinieri di Pescara per essere interrogato per spiegare il perché, ammesso che ci sia, di un gesto tanto spietato. Alcuni vicini di casa, lontano dai microfoni, hanno accennato ad una possibile depressione dell'uomo descritto spesso seduto al balcone con lo sguardo fisso nel vuoto. Nelle prossime ore, probabilmente, ci sarà modo, anche grazie all'autopsia, di chiarire movente modalità dell'omicidio. Resta però l'amarezza per un gesto folle che ha strappato un padre all'affetto della sua famiglia. Andiamo avanti con la lettura delle pagine del quotidiano Il Centro. Gli accertamenti del comune, si parla di tasse imuettasi, scoperti in tre mesi 180 evasori e poi i tributi comunali non versati, ancora aperti i termini per il condono. Più in basso, solo 100 bancarelle nel tunnel di via Ferrari, l'aggiunta detta alle regole per il mercatino etnico. L'apertura in forma sperimentale durerà due anni. E poi in basso, RSU in comune, la metà dei seggi va alla CISL. Riviera da oggi chiude il tratto fino a Viale Muzzi, siamo a Pescara, proseguono i lavori e poi via Battisti diventa tutta isola pedonale per le sere d'estate. Andiamo avanti. L'ASL ripristina le cure per Lidia dopo gli appelli e le diffide. La giovane pescarese riottiene le terapie domiciliari. Oggi in via Tavo, assistenza a disabili, incontro dell'associazione, diversi uguali. Ieri caldo e giornata festiva a Pescara, primi tuffi in mare. Aperte le iscrizioni, siamo sempre nel capoluogo adriatico, ai nidi d'infanzia, domande da maggio. E poi ieri, giornata del 25 aprile, un calcio al razzismo quadrangolare con ampie caritas cerimonie in piazza Garibaldi, proprio per la ricorrenza della liberazione. Ancora notizie da Pescara, musica e show per aiutare una famiglia in difficoltà stasera al caffè letterario. Poi domani è ingresso gratuito, il film Pertini il combattente al cinema Sant'Andrea. Proseguiamo, siamo a Montesilvano, le questioni, le polemiche che riguardano la giunta Maragno. La mia giunta, ha detto il sindaco, lavora solo per la città dopo la revoca dell'assessore via WhatsApp. Il primo cittadino spiega quello che è accaduto e poi aggiunge, avrei voluto consigliarne alla di persona, ma è sempre assente. Stazione di Montesilvano al via Collaudi, agli ascensori installati proprio di recente. E poi, sempre Montesilvano, bandiera verde, uniti nel nome dei bambini, premiati sindaci delle spiagge, a misura di Bebi, cerimonia nazionale a Montesilvano. Sempre nella città adriatica, via Tamigi, traffico insostenibile, strada inadeguata per i mezzi che vogliono raggiungere. La Vestina, città Sant'Angelo, questa sera si terrà il consiglio comunale nel centro angolano. Proseguiamo, siamo a Francavilla, Supermare Cross, un successo di sport e di pubblico. Sei le classi di gara che si sono date battaglia tra i diversi stabilimenti balneari come Mambo e Summer Time. Poi ancora Francavilla, naturalmente, domani il convegno al Museo Michetti. E poi Cardabruzzo, conferma Rosa Borgia, la direttrice del distretto sanitario di Francavilla, presidente della società scientifica dei servizi. Proseguiamo, siamo nell'area Vestina in Val Pescara, il comune di Penne apre l'ufficio europeo per resto al sud. E poi a Manoppello, piazza Marsinel, simbolo nel degrado, sporcizia perenne tra il carrello e la fontana in marmo di Carrara, realizzata da Cascella. In basso, le terre Maiella-Morrone festeggiano un anno di attività. Andiamo ancora avanti, siamo alla pagina di Chieti del Centro. Debito di 30 anni fa, lavori non pagati, causa da 2 milioni, impresa fallita, cita il Consorcio Industriale. La Regione sotto accusa il mancato pagamento dei lavori dell'asse attrezzato. E per gli espropri, ora servono 13 milioni. In basso, si parla di cronaca giudiziaria, licenziata per una foto, il giudice la riassume, è accaduto a Lanciano. Siamo ancora a Chieti, i piani dell'Università d'Annunzio, parla il Rettore Caputi che dice siamo al lavoro su Pierantoni, è bucciante ad Atessa, rapina di qualche giorno fa e caccia aperta ai tre banditi. Ci spostiamo a San Salvo, altra auto bruciata e di un professionista incendio doloso distrugge una BMW le indagini delle forze dell'ordine. Ancora siamo in provincia di Chieti, Ortona, nuovo mercato coperto, apriamolo a più attività, lo chiedono alcuni consiglieri comunali. Tollo, sconti sulla tassa dei rifiuti, domande entro fine mese. E poi ancora Ortona, il risorgimento in Abruzzo, dialogo con due esperti e poi maggio dei libri, oltre 40 iniziative. In basso, Fossa Cesia, ieri corteo per ricordare la liberazione nella cittadina frentana. Siamo a Teramo, verso il voto in comune, referendum PD. Chi perde si tira indietro, il garante di Sabatino auspica la convergenza tra Cavallari e Dalberto, dopo il risultato delle consultazioni tra gli iscritti. E poi il centrodestra, i civici dicono no a morra alle elezioni. Andiamo da soli. In basso, dalla parte di Dalberto, ritorniamo al centrosinistra. Melarangelo, scelgo il progetto di discontinuità con il passato dalla parte di Cavallari. Sciamanna, sto con la proposta più libera e più aperta al dialogo. Cronaca che arriva da Pineto, bimba zannata al volto dal cane, ferita e trasportata all'ospedale Salesi di Ancona. Multe a San Gabriele protestano i frati, i padri passionisti attaccano il comune di Isola del Gran Sasso. Sono l'unica cosa che sa offrire ai pellegrini. In basso, Martinsicuro, in cinque anni poveri, sono raddoppiati nella cittadina balneare della provincia di Teramo. E poi Giulianova, Orsini 63, ricorso al Tar per lo sgombero. Lasciamo questa pagina che riguarda la provincia di Teramo. Ci spostiamo in un'altra pagina, siamo sempre in provincia, del capoluogo Aprutino. Questa volta si parla del voto ad Atri e a Silvi. L'ex sindaco Basilico torna in campo e appoggia Marcone. Mentre a Silvi la Lega rilancia su Scordella. Cronaca sempre da Silvi, frontale fra auto e moto, ferito un giovane. E sempre nella città di Silvi, siglato il patto per la sicurezza. Accordo tra comune e prefettura, videosorveglianza in cinque zone a rischio. Siamo all'Aquila, Gran Sasso, prove di rilancio, riaperto l'ostello, più alto d'Europa. Ci spostiamo nella parte bassa della pagina, all'Aquila la centrale del 118. L'ipotesi Pescara sarebbe un altro schiaffo, dice il sindaco Biondi. Noi abbiamo già 6 milioni. Andiamo a vedere un'altra pagina che riguarda questa volta la Marsica. Siamo ad Avezzano, il sindaco De Angelis tenta di ricucire la spaccatura. Si parla ovviamente in questa pagina, in questo articolo della crisi in comune. Poi lutto all'Aquila, muore per un infarto il pittore Paolucci, funzionario e direttore di sala del Ridotto. Aveva 56 anni. In basso, siamo sempre all'Aquila, ha risolto il giallo dello scomparso, 55enne, che era sparito dalla città. È stato rintracciato ad Ascoli Piceno e poi a Sulmona molestò una dodicenne. Via al processo. Possiamo a questo punto fermarci per qualche attimo. Siamo arrivati alle pagine dello sport, ma dobbiamo andare a vedere insieme le pagine interne del messaggero del quotidiano. Lo faremo tra qualche istante. Di nuovo in studio, seconda parte di Mattino 6. Avevamo esaurito la lettura delle pagine del quotidiano Il Centro. Siamo all'inserto Abruzzo del messaggero. Si riparte ovviamente dalla visita ieri nella nostra regione del Presidente della Repubblica Mattarella. Troilo diceva, niente politica, si combatte soltanto per l'Italia. Queste le parole nel discorso e nel racconto di Antonio Rulo, ex combattente e presidente dell'Associazione Brigata Maiella, ha 92 anni. Vediamo anche l'altra pagina dedicata alla visita del Capo dello Stato, che ha detto Qui è nata la resistenza. Casoli si è vestita tutta festa in un tripudio di tricolore. Centinaia di bambini sventolano bandierine e urlano Presidente, attaranta la folla in tona, il canto Bella ciao, prima abbiamo visto il servizio della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Abruzzo. Ora siamo alla cronaca di Pescara dal messaggero. Il bocchettone dell'aria mi dava fastidio e uccide il vicino a coltellate, Salvatore Russo, muratore di 58 anni, massacrato con decine di coltellate. L'assassino si è subito costituito. Presto venite, ho ammazzato una persona. Vittoria, non ce la faccio, urla di dolore della moglie assieme ai figli dell'uomo ucciso a coltellate ieri mattina a Pescara. Vediamo anche un'altra pagina che riguarda la cronaca, sempre di Pescara dal messaggero. Asili nido, i lavori riducono i posti. Dal 2 maggio via le iscrizioni, moduli in distribuzione all'URP. Sul sito del Comune le famiglie possono indicare le sedi preferite. L'inchiesta botte agli alunni la maestra verso il processo. E poi a Pescara, anche ieri come in tante città, in piazza Garibaldi, in questo caso l'omaggio ai caduti nell'ambito delle manifestazioni. Per il 25 aprile, Montesilvano, bandiere verdi, guida il club delle spiagge Baby. E poi in basso il Canada premia Silvestri il Taycon. Partito da Brittoli. Andiamo avanti, siamo all'Aquila. Gran Sasso 2000 per l'ostello Maggiardino e Servatorio K.O. La struttura gestita dei fratelli Mancini fa il pieno e chiederà al Guinness il record per l'altitudine. E poi il lutto, abbiamo visto prima anche dalle pagine del centro, lutto all'Aquila, un malore in montagna, stronca, Lucio Paolucci. Biondi, il PD abruzzese, Scippa, la centrale del 118, polemica tra l'Aquila e Pescara. Dura nota del sindaco, c'è una donazione, basta mortificare il territorio. Si parla della sede centrale del 118 nella nostra regione. L'uomo scomparso da Roio, ritrovato a San Benedetto e poi vive in Svizzera ma ottiene i soldi del sisma. La procura della Corte dei Conti ha dato l'ok alla restituzione. Andiamo ancora avanti, andiamo a vedere un'altra pagina del messaggero. Siamo in questo caso alla pagina dedicata alla Marsica e alla Valle Peligna per le buche e la provincia. Chiude le strade. Siamo in Valle Peligna, emessa un'ordinanza che per il timore di incidenti dovuti a dissesti ha sbarrato la strada a mezzo Abruzzo interno. E poi, sindaco all'attacco da Civitella al Fedena parte la contestazione. E poi il 25 aprile, qualche polemica ad Avezzano in questo caso, Domenici dice Lampi non è stata invitata. Ancora Avezzano, Bianchini di Forza Italia, da De Angelis solo un errore appresso all'altro. E poi Eligi del Movimento 5 Stelle, noi disponibili ma ora non più. Sul Mona riaprono i tre centri chiusi dal Nassa. Ad Avezzano, Fiera di Pietracquaria, fuori 100 irregolari. Siamo alla pagina di Chieti del messaggero. Niente parcheggi, zero lavori, la rabbia degli automobilisti. A Megalò previsti 859 posti a pagamento. Ma per ora c'è solo il divieto con rimozione. Parliamo di università con l'Ateneo che finanzia le attività culturali degli studenti. E poi le spine del comune di Chieti, manovre di bilancio, Febo, esponente del PD, bocciatura su tutta la linea. E poi Chieti, vedete in basso l'articolo, insignita della medaglia d'oro al Valor Civile. L'annuncio del primo cittadino durante la celebrazione del 25 aprile. Tante le manifestazioni, le cerimonie che si sono tenute anche nella provincia di Chieti. E noi andiamo proprio in provincia di Chieti, a San Salvo, notte di fuoco incendiata, un'altra auto. E poi il Consiglio Comunale di Ortona, Di Nardo, attacca calpestata l'opposizione nel vastese paura per il terremoto che c'è stato ieri con epicentro nel Molise con magnitudo 4.2. Siamo a Teramo, negozi e fuggi-fuggi dal centro storico. Meglio sulla costa, aiuta Teramo, creato lo slogan per far sì che si acquisti di più in città per dare un nuovo corso a tutta l'economia. E poi, care strisce blu, oggi sit-in di protesta contro i licenziamenti alla Tercop. Notizia poi che arriva dalla provincia. Zannata dal cane, abbiamo visto anche prima, la bimba di sei anni ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Salesi di Ancona. Zara uccisa a fucilate, vittima di vendetta per questa cagnolina Setter, uccisa con un colpo di arma da fuoco. Siamo a Giulianova, a Porto. La passeggiata finisce in rete, chiuso il lato nord del molo a causa dei lavori di costruzione del nuovo braccio. Ma il cantiere ormai è attivo solo sulla carta. Andiamo più in basso, ci spostiamo in Val Vibrata, dal Badriatica, in 130 da tutta l'Italia per sette posti da vigile urbano. E poi a Martinsicuro, cari estinti, senza più loculi, ampliamo i due cimiteri. Questa la richiesta. Proseguiamo, siamo arrivati però alle pagine dello sport. Dobbiamo andare a vedere dunque le pagine interne del quotidiano La Città. Abruzzo, la terna torna a tremare, stavolta in Molise, scossa di magnitudo 4.2 in provincia di Campobasso, avvertita distintamente anche nella nostra regione. Poi vedete in basso, consegnate le bandiere verdi per le spiagge a misura di bambino. Ieri mattina la cerimonia al Palan di Martin di Montesilvano. Sanità, siamo a Teramo, dalla Sicilia a Teramo per l'intervento innovativo, viaggio di mille chilometri per una trentenne sottoposta ad una delicata operazione eseguita in endoscopia. In basso, turismo, cercasi gestore per l'affidamento degli impianti di risalita dei prati di Tivo. Il centro-destra, siamo a Teramo, le prossime amministrative andrà al voto spaccato. I civici presenteranno un proprio candidato sindaco da contrapporre a Giandonato Morra. Questo è il titolo di apertura nella parte alta della pagina. In basso, prorogati termini per i crediti formativi. Al Braga le iscrizioni possono essere presentate fino al prossimo 30 aprile. Le candidature PD vincolate alle consultarie. L'esito della sfida tra Cavallari e Dalberto condizionerà la lista per le amministrative terramane. Una parte del partito sabato non andrà a votare in protesta per la scelta di non candidare un sindaco. Tercoppe esclusa dal bando per i parcheggi. Questa mattina la protesta dei sindacati è organizzata sotto il Palazzo del Comune, sotto la Prefettura a Teramo. Andiamo avanti. Tanti responsabili per la centrale della Cona. Il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Rocchetti, interviene sul progetto per lo spostamento. Siamo a pagina 10. Il 25 aprile, dalla nostra resistenza, una lezione di unità. Nelle parole del prefetto Patrizzi, il senso delle celebrazioni per la liberazione dal nazifascismo. E indignazione a Roseto, vedete, per lo striscione affisso da Forza Nuova, apparso in Piazza Dante durante la notte, è stato subito rimosso dai carabinieri avvisati dal sindaco Sabatino di Girolamo. La resistenza è nata in Abruzzo. Vedete quest'altro articolo che fa riferimento alle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ieri in visita nella nostra regione. Pagina della provincia. Siamo a Campli. Vendetta fra cacciatori dietro l'uccisione del cane. L'ipotesi più accreditata per l'esecuzione dell'animale è avvenuta sabato a Molviano di Campli. Andiamo a vedere un'altra pagina, sempre dal quotidiano La Città. Siamo in Val Vibrata, al Badriatica cecchirema contro l'accordo unitario. Il sindaco Piccioni sbotta sulla mancata convergenza del centrodestra. E poi a Nereto di Flavio risponde al commissario sulla carenza di personale in basso, presidio anarchico a Castronio per Pierloreto Fallanca. Siamo a Tortoreto, estate di eventi tra conferme e tante novità. L'amministrazione presenta il calendario delle manifestazioni disponibili anche con il Quarkod. Vediamo altri articoli sempre dal quotidiano La Città. Ci spostiamo in questo caso a Giulianova. Ecco, vedete l'articolo con corredo di foto a tutta pagina. Ecco il progetto per il lungomare Giuliese, più aree verdi per la ciclabile ed eliminazione progressiva del traffico. E domani sera l'evento dedicato al Sigaro Cubano, sempre a Giulianova. Giornata di sport per le bambine del basket al Palacastrum, sempre della città Giuliese. In basso, questa importante testimonianza durante la premiazione dell'evento dedicato all'oncologa Esther Pasqualoni, uccisa lo scorso anno, ho sconfitto il cancro. Grazie ad Esther Pasqualoni. Questo è l'articolo che troviamo nella parte bassa della pagina. Andiamo a vedere un'altra pagina che riguarda sempre il litorale Terramano. Silvi, bimba zannata al volto da un cane, ricoverata in gravi condizioni ad Ancona. E poi a Roseto degli Abruzzi, Movida Rosetana, telecamera in arrivo in centro città e nella Pineta. In basso, ancora Roseto, cade un altro palo e stavolta colpisce una macchina automobilista preso in pieno all'altezza del globo, lungo la statale. Fortunatamente illeso. Ancora Roseto degli Abruzzi ed Atri, ricorso contro le delibere urbanistiche. Casa Civica, siamo a Roseto, chiede l'annullamento della destinazione d'uso degli immobili ad Atri. Vedete l'articolo di spalla, Paolo Basilico scende in campo al fianco di Gianmarco Marcone. Tutto pronto a Roseto per spiagge d'Abruzzo Cap, la tradizionale sfilata di apertura spostata dal lungomare al Palamaggetti. Proseguiamo, Silvi al voto. Siamo ad un'altra pagina che riguarda in questo caso le amministrative di Silvi. Il centrodestra unito è una squadra vincente. Andrea Scordella parla della sua candidatura e di prospettive e progetti per il rilancio della città. Pineto, raccolta firme per avere le barriere fonoassorbenti. Lungo la linea ferroviaria, in basso la cronaca ancora Silvi. Moto contro auto, grave un 24enne. Proseguiamo, pagina della cultura. Tra una camera ed un bosco al tramonto, giovani cantautori crescono, arriva etimologia. Il nuovo album di Francesco Sbraccia. Arriviamo alla pagina dello sport che riguarda il Teramo. Teramo all'attacco, De Grazia trequartista. Il centrocampista provato alle spalle delle due punte. San Domenico sarà fuori. Causa squalifica. Teramo che giocherà una gara fondamentale. domenica a Fano, gara che vale praticamente una stagione. Siamo alle pagine dello sport del centro. Ultraroma, follia a Liverpool, un tifoso in coma, due arresti. E nell'altra semifinale di andata, giocata ieri, col paccio del Real Madrid in casa del Bayern Monaco, madrileni che si impongono per 2-1. Il tifo juventino si scalda, vedete in basso fuori gli attributi, confronto con i giocatori all'uscita di Vinovo. Dobbiamo reagire e vincere lo scudetto. Una breve di volley, pareggio nella sfida scudetto tra Perugia e Civitanova. Dopo la vittoria in gara 1 degli Umbri, i marchigiani hanno pareggiato i conti. Siamo al pugilato. Gli 80 anni del mito italiano Nino Benvenuti. La mia box era fame e aggressività. Griffith da rivale è diventato un amico. Come Monzon parla il grande ex pugile italiano che è intervenuto a Roseto ai campionati europei. Bisogno primo degli italiani a proposito di questa manifestazione. Alla 41esima passeggiata di primavera, dominio keniano. Quarto Bucci, quinto Scarinci. Ma in questo caso non si tratta di pugilato, bensì di podismo. Invece l'altro articolo che riguarda il pugilato europeo, IOT, tre ori per l'Italia. Questa è la manifestazione rossetana che ha visto proprio la presenza di Nino Benvenuti. Andiamo a vedere un'altra pagina di sport che riguarda in questo caso il calcio. Il Pescara che si prepara alla sfida di Terni in programma sabato alle 15. Fornasier in dubbio, difesa in emergenza proprio per la sfida in Terra Umbra. 400 tifosi in partenza per Terni. Ma ci sono problemi per quanto riguarda la difesa perché Coda è squalificato. Fornasier non sta bene e dunque potrebbero essere davvero contati gli uomini a disposizione di Pilon. Ed ecco il mondo di Baez. Io papà e il Pescara, attaccante figlio d'arte, dice volevo più spazio. Ora però salviamoci e poi andiamo a vedere quello che accade in casa Umbra. Montalto, lo spauracchio del Delfino, il bomber della Ternana, 20 gol segnati. Il suo agente è il pescarese Carlo Di Renzo che dice del suo assistito. È un animale d'area di rigore. Siamo al Teramo, Serie C, bacio Terracino, voglio un altro gol. Nella gara d'andata la rete decisiva della vittoria. Spero di ripetermi per fare un passo importante. Verso la salvezza. Andiamo a vedere la pagina che riguarda il calcio di eccellenza. L'ultima giornata, quella di ieri. Pareggio sul neutro di San Giovanni Teatino tra River Chieti e Chieti. 2-2 con i giocatori nero-verdi contestati dai tifosi. Gli altri risultati. Acqua e Sapone, Torrese 3-7. Capistrello, Alba Adriatica 1-2. Martinsicuro, Paterno 0-1. E poi Giulianova, già promosso, che ha battuto il San Buceto 1-0. Amiternina, che festeggia la salvezza battendo 2-1 il San Salvo, che invece retrocede. E poi Miglianico, Spoltore 1-0. Cupello, Montorio 0-0. Penne, Angolana 2-0. Vediamo un attimo se è possibile, se riusciamo ad ingrandire questo specchietto. Non si legge moltissimo. Giulianova, promosso, San Salvo retrocesso. Per quanto riguarda i play-off, si giocherà la sfida fra il Chieti e lo Spoltore. Per quanto riguarda dunque la squadra, che dovrà cercare, poi tramite anche gli spareggi nazionali, di accedere al campionato di Serie D. Siamo al ciclismo. A tollo il pescarese d'Angelo stacca tutti. Alla Colli Teatini, azione decisiva a 15 km dalla fine. Secondo Tirabassi, nel percorso corto, la spunta di Ghionno davanti a Del Rico. E Ciutcarelli conquista il trofeo Madonna dei Lumi di Civitella del Tronto nella corsa Juniores. Quarto posto per Greco, settimo per Di Felice Antonio. E poi il tennis, oggi gli ultimi ottavi di finale al torneo internazionale di Francavilla. Vanni Quinzi, sfida fra amici. Vediamo anche le pagine dello sport del messaggero. Ripartiamo dal Pescara. Pescara a Terni, una sfida delicata. Le fere di De Canio in Magic Moment stanno marciando più forte delle altre. Ricordiamo che la Ternana ha conquistato 10 punti nelle ultime 4 partite, pareggiando solo con il Foggia e vincendo le altre 3 gare. L'ultima a Perugia nel sentitissimo derby Umbro. Da una parte ci sarà la coppia Pettinari-Mancuso, dall'altra Montalto-Tremolada. Acri, grande organico, il Delfino si salverà di certo, parla il doppio ex. E poi il Pugilato a Roseto. Benvenuti, festa per gli 80 anni, proprio alle finali europee giovanili. Purtroppo senza boxer abruzzesi. Oggi, ha detto benvenuti, mancano le motivazioni. E siamo al Teramo Campitelli, primo tifoso del Teramo, il patron sempre presente agli allenamenti durante la settimana, che precede il big match di Fano. Paladini studia l'inserimento di Tullio De Grazia dietro le punte con l'obiettivo della vittoria. Calcio a 5, Equestapone vince a Latina e conquista il secondo posto matematico importante in vista dei play-off. E poi la mezza pagina del giovedì, come sempre, dedicata al calcio WISP. Vedete articoli con risultati e classifiche dei vari campionati del provinciale di Pescara per quanto riguarda il calcio WISP. E poi la pagina, l'ultima pagina di sport del messaggero, dedicata all'ultima giornata del campionato regionale di eccellenza. Chieti, pareggio e tensione, Marino e tifosi aiutateci, 2-2 nella sfida tutta teatina tra River e Chieti. E poi play-off, Martinsicuro a Paterno, San Salvo giù, perché l'altra sfida per i play-off, oltre a Chieti spoltore, sarà Martinsicuro a Paterno. San Salvo retrocesso. E poi Real, Giulianova pensa al futuro in D, resta il magico tridente. Messaggio di Delgrosso per la panchina, oltre a Di Fabio, sentito anche Rachini dell'Angolana. Vediamo anche, no, questa era l'ultima pagina per quanto riguarda lo sport del messaggero. Dunque, ricapitolando per quanto riguarda proprio questo campionato, ci saranno le due sfide play-off tra Chieti e Spoltore, tra Paterno e Martinsicuro. Ai play-out, il Cupello invece se la vedrà in casa il 6 maggio con il Montorio e il River al Campo Celdit, con il Miglianico San Salvo retrocesso. In promozione questi i verdetti arrivati dall'ultima giornata e noi chiudiamo, come sempre, con le prime pagine dei quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport, l'agguato di Liverpool, tifoso in coma, UEFA durissimi, ecco che cosa rischia la Roma dopo gli incidenti di Liverpool. Scalata Real, Coppa dei Campioni, Bayern battuto in casa 2-1, ritorno il primo maggio a Madrid. E poi tensione in casa Juve, euforia in casa Napoli, stati d'animo diversi. Nelle ultime quattro giornate di campionato si deciderà ovviamente la volata a Scudetto. Siamo al Corriere dello Sport, Roma Shock, irlandese in coma dopo un agguato a Liverpool, arrestati due romani, l'accusa tentato omicidio. L'Ira dell'UEFA, punizioni severissime in alto. Operazione sorpasso, si parla del Napoli che punta a superare la Juventus. Infine, Tutto Sport, Allegri Shock, il nostro sondaggio, quello di Tutto Sport, sul futuro di Allegri. 47% sì, 53% no. E poi, 5 e 3 della Roma arrestati, tifoso del Liverpool in coma. L'UEFA minaccia delle sanzioni. Poi altre notizie che riguardano il Torino, che guarda già la prossima stagione, e il Milan, che vira su Muriel. Perché è difficile, almeno in questo momento per la società rossonera, arrivare a Geco della Roma e a Belotti del Torino. Siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi, di giovedì 26 aprile, con Mattino 6. Io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia, ringrazio voi per averci seguito. Vi ricordo che la nostra consueta rassegna stampa tornerà domani alle 8, alle 14 invece. Ci sarà, come sempre, la prima edizione del nostro telegiornale. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie a tutti.